Stavano probabilmente guardando la televisione i due anziani, marito e moglie di 88 anni residenti in strada a Sant'Antonino a Vicenza, quando i ladri hanno fatto visita alla loro abitazione. Ad accorgersi del furto la moglie è il momento di andare a letto. Salita in camera, trovato tutto aperto e rovesciato, i ladri entrati dalla porta finestra del bagno rimasta socchiusa, erano riusciti a rovistare con calma portandosi via monili in oro tra anelli e collane di perle per un valore di circa 3.000 euro. Grazie a tutti.